Devo dire che fin dall'inizio sono stato favorevole alla costituzione delle aree omogenee perché ha risolto il nodo dell'1-18-315, cioè 1 il sindaco, 18 i consiglieri metropolitani, 315 i comuni che non avrebbero praticamente avuto diritto di parola. Grazie alle aree omogenee i vari territori possono esprimersi, confrontarsi, costruire proposte comune e anche fare delle critiche come in questo caso per quello che riguarda il bilancio, di cui prendiamo atto così come tenendo conto che ha avuto scarsa capacità di coinvolgimento e che è ancora molto legato all'attività della provincia e che deve contenere invece gli elementi del piano strategico perché il bilancio deve scendere dal piano strategico. Noi vogliamo capire come aree omogenee, come metterci in dialettica con questo piano strategico. In ogni caso abbiamo deciso di intervenire soltanto con la voce del portavoce appunto, in modo tale che ci caratterizzassimo come soggetto politico perché la città metropolitana siamo noi, non soltanto il sindaco e il consiglio, siamo noi l'insieme di città.